salve cari amici del canale oggi vi voglio parlare di un oggettino che è estremamente economico estremamente leggero da portarsi dietro e indispensabile per me questo è il classico segaccio da giardino 18 centimetri e con questo ci si fanno grandi 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 scordatevi le seghettine a filo e anche la sega quella a catena con le maniglie non fa gli stessi lavori di questo oggetto qui è un oggetto che costa mi sembra ho pagato io 8 euro una cosa del genere questo tipo di segaccio qui si trova di 30 mila marche questo marcato samurai però si trova uguale identico spiccicato di 30 mila marche e dovete averne uno questo dovete averlo per forza con questo si fa legna si fanno intarsi in tagli per collegare legni per fare strutture più grandi è una cosa favolosa è sicuro perché a questo sistema di aggancio che fa sì che non si possa chiudere finché attaccato quando poi lo staccate potete chiudere il segaccio a serramanico e metterlo nello zaino io una volta trovato questo non ho più avuto il problema di pensare a quale accetta quale coltellone eccetera con questo coltellino si fa tutto oppure questo un coltellone un coltellino però io questo non ci rinuncerei mai non è che dico porto un'ascia un'accetta questo è un coltellino e avete risolto il vostro outdoor o la vostra sopravvivenza in un bosco intorno all'Atalanta quando ci sono gli zombie amici abbiamo detto tutto sul segaccio giapponese adesso ci possiamo salutare e vederci alla prossima ciao